Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, oggi una ricetta, una ricetta di una bevanda calda che io in questa stagione amo da morire, è molto profumata, è molto speziata e ha la frutta e io spero che vi piaccia, ma prima di vedere la ricetta ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanellina in modo da essere avvisati ogni volta che carico un nuovo video sul canale, lasciate un mi piace al video per sostenermi e condividete il video con i vostri amici se vi va e niente vi lascio la ricetta, ciao! In un pentolino vado a versare una mela tagliata a pezzi, non serve né sbucciarla né pulirla ma solo lavarla molto molto bene ovviamente e vado a coprirla con due bicchieri di acqua e la porto ad ebollizione, deve cuocere per almeno 15-20 minuti finché le mele non si disfano completamente, nel frattempo vado ad aggiungere anche il succo di una fetta di limone ultimato il tempo di cottura le mele saranno completamente disfatte a questo punto tolgo il pentolino dal fuoco e vado a versare in un bicchiere con un coline in modo da filtrare il succo di queste mele che praticamente adesso abbiamo realizzato uno sciroppo di mele una volta che ho filtrato bene tutto il succo cerco di togliere il più possibile dalla polpa delle mele in modo da togliere proprio tutto tutto il succo del frutto una volta che ho filtrato bene tutta la mela riporto il succo nel pentolino e continuo la ricetta andando ad aggiungere una fetta di limone una o due fette di arancia tre chiodi di garofano una spolverata di cannella e un cucchiaino di miele aggiungete o diminuite il miele in base ai vostri gusti e poi se volete quando volete bere la vostra bevanda potete aggiungere anche un po di zucchero o di canna lascio bollire altri dieci minuti e poi filtro nuovamente la bevanda con un colino a questo punto la mia bevanda è già pronta ed è squisitissima e niente questa è la bevanda appunto che abbiamo preparato assieme io la amo da morire come avete potuto vedere ho utilizzato molta frutta molte spezie e il profumo è davvero qualcosa che dovete provare quindi provate questa bevanda lasciatemi scritto nei commenti cosa ne pensate se vi piace se non vi piace dei consigli qualsiasi cosa altri suggerimenti altre ricette che sapete che i vostri consigli per me sono preziosissimi e niente io vi ho già detto prima che questa bevanda la amo quindi insomma fatemi sapere anche voi cosa ne pensate ricordatevi di iscrivervi al canale lasciare un mi piace al video e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao 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 ciao